Saione, il quartiere più popoloso della città di Arezzo e anche quello con maggior numero di stranieri residenti ai quali ultimamente si sono aggiunti migranti e richiedenti asilo. Un fatto pochi giorni fa ha riportato all'attenzione il tema della sicurezza, alcuni volantini di stampo razzista distribuiti in via Piave, ma residenti e commercianti non ci stanno a definire invivibile questo quartiere. Chiaro che qui c'è una densità enorme di estracomunitari e non solo estracomunitari, anche comunitari, comunque siamo intorno al 25-28%, quindi è chiaro che ci sono, poi ultimamente sono arrivati i famosi migranti che proprio tutti bravi bravi non sono, e quindi però insomma si vive, non è da dire che ci dobbiamo, come abbiamo sentito, chiudere in casa oppure si vive e anche si lavora, perché questa gente che spende poco però spende. Insomma un pochino di confusione c'è, ci vuole più controlli, ci vuole di integrare queste persone, cercare di coinvolgerle, perché se vivono così allo sbando è chiaro che la confusione viene. Diciamo abbastanza bene, però non come anni indietro, ora è una cosa un po' diversa, particolare, diciamo che c'è molto più caos, non è più la sicurezza che c'era 30 anni fa, perché sono 33 anni che sono qua, ci si vive per forza, però non è più la vita di anni indietro, e la tutela non è come prima. Allora io alle 19.30 chiudo, quindi per me la sera, il giorno è successo alcune situazioni un po' sgradevoli, però non è che tutti i giorni ci sono queste situazioni sgradevoli, secondo me, e poi dopo. La Polizia Municipale secondo lei sarebbe necessario che fosse qui in forma diciamo fissa? No, fissa no, però passaggi più fitti sicuramente. Il sindaco Ghinelli, in accordo con la Polizia Municipale, ha deciso di organizzare un pattugliamento fisso, in particolare in Via Piave e Via Trasimeno, e il rafforzamento della presenza in città delle forze dell'ordine sarà al centro del prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato con urgenza dal prefetto ed in calendario per il prossimo lunedì. Oggi siamo a dei manifesti molto brutti, temo che sia l'ultimo gradino della protesta verbale, no? E quindi va fermata qui, punto. Bisogna agire in modo tale che non si nasprisca di più. Potrebbe esserci anche un eventuale intervento dell'esercito? Ma io non credo che ce ne sia bisogno, noi mettiamo le forze che possiamo mettere, oltretutto siamo in un periodo di ferie, no? Quindi non è nemmeno facile coprire il turno di pattugliamento fisso a Saione. Chiediamo disponibilità alle forze dell'ordine e chiederò al prefetto che potremmo decidere insieme circa l'opportunità di rinforzare queste pattuglie con quelle di Carabinieri, Guardia di Finanza e di Polizia di Stato, ovviamente. Se questo non dovesse essere possibile, l'ho messa come ipotesi lontana, quella di invocare la procedura strade sicure che oggettivamente è destinata alla messa in sicurezza di obiettivi sensibili. Ora oggettivamente la Piave non è un obiettivo sensibile. L'ho detto perché è l'ultima razza rispetto alla mancanza di personale, ma non credo che si debba arrivare a tanto.